Noi abbiamo un'esigenza stringente, il nostro paese, noi siamo qui ad Ecomondo dove queste tematiche sono particolarmente significative, abbiamo bisogno di produrre una semplificazione normativa e di avere certezze, perché altrimenti gli imprenditori le scelte non le fanno, gli investimenti non si fanno. E allora aspettare e tutti dire giustamente vogliamo che l'Italia riparta, abbiamo bisogno di opportunità di lavoro, abbiamo bisogno che gli imprenditori investano, però se contemporaneamente a queste dichiarazioni del tutto giuste e legittime non produciamo le condizioni ad esempio normative di certezza per cui l'investimento si possa fare, beh siamo in una bella contraddizione.